Il museo di Sesano Nel museo di Sesano, recentemente riallestito di Molfetta, non poteva aver sede migliore la mostra di Giovanni Gasparro, pittore che ha dedicato tutta la sua vita ai soggetti religiosi, attraverso una concentrazione sulla grande pittura del Seicento italiano, in particolare napoletano, da Caravaggio fino a Stazioni, a Ribera, sentendo la dimensione mistica dell'esperienza religiosa, che si proietta in una pittura calda, densa, viva, vibrante, come quella di un pittore antico, con una formidabile somiglianza con un pittore che lui sicuramente ama, che è Domenico Fetti, e contemporaneamente un'attenzione all'opera di Ribera. Prima mostra personale in Puglia, dopo aver fatto il Giro del Mondo. Tornare a casa e esporre nel proprio contesto è certamente gratificante. Il nuovo Teatro del Divino è un tema assolutamente attuale, rispetto a un'epoca di grande confusione, anche sotto il profilo della spiritualità. È una belata allusione al contesto odierno, ma è anche un modo per ricalcare un po' la mia recentissima esperienza di scenografo teatrale al Teatro Coccia di Novara, dove lo scorso anno ho realizzato le scenografie per la Tosca di Puccini. Quindi abbiamo condensato queste due anime, pittorica e da scenografo. Ma poi quando si entra, non si ha l'impressione di entrare in un teatro? Cioè con questi santi che si muovono, con questa dinamica. Non sono le solite immagini di, come si dice, con i santi in posa che ti guardano, no? È proprio un teatro. Ecco perché ha voluto proprio lui il termine teatro. Anche un confronto particolarmente impegnativo con il passato, con illustri esponenti della pittura del passato. Sì, un lusinghiero direi, perché in mostra ci sono due opere a confronto con i miei dipinti, ovvero il San Nicola Pellegrino di Corrado Giacquinto a confronto con una grande palla d'altare che ho realizzato per la chiesa di San Francesco d'Assisi a Trani, e la pietà di Bernardo Cavallino che già nelle collezioni del Museo Diocesano di Molfetta a confronto con la mia corredenzione. Tutto questo però in un racconto, in una capacità di rappresentare i soggetti religiosi attraverso delle acrobazie, dei montaggi particolari, delle capacità di moltiplicare le mani e tutto questo per creare un effetto iperbarocco che rende la sua opera una riflessione sulla grande pittura antica, ma del tutto attuale, perché c'è una verilicità, un racconto che diventa quasi una volontà di ritrovare il tempo perduto, ma con la capacità di rendere intriganti, misteriose, surreali le sue invenzioni, attraverso un allargamento dell'iconografia a elementi che sono estranei, esterni, che sono onirici e quindi un realismo onirico. Credo che questa sia la caratteristica pregnante della pittura materica, densa, viva, vibrante di questo grande pittore, il giovane grande pittore pugliese che osserva la grande pittura napoletana del Seicento a partire da Caravaggio, Mattistello e confrontandosi questa volta anche con Cavallino per dimostrare alla fine che c'è una identità tematica e un'identità anche temporale, nel senso che non avverti che lui è un pittore del Novecento e che Cavallino è un pittore del Seicento. Sono entrambi, anzi lui è un pittore del 2000, del nuovo millennio, ma sono di uno stesso tempo interiore che il tempo di un'esperienza mistica, religiosa, spirituale e di convinzione profonda di valori che sono i valori cristiani. Sgarbi l'ha definita il nuovo Caravaggio, sente questo peso nella sua produzione? Direi che è un confronto fin troppo lusinghiero, ma mi guardo bene da cercare un confronto con un autore così importante. Certamente è fra i pittori che ho guardato di più e insieme anche alla sua scuola, ai suoi pigoni, questo certamente, Sgarbi, in quello ho accolto perfettamente. Nella sua pittura c'è una rifondazione di valori cristiani che sono stati cancellati dalla pittura del Novecento e con lui nel nuovo millennio ricominciano a prendere vita. Nessun pittore aveva osato dipingere palle d'altare soggetti religiosi con una così forte e immediata sfida a tempi che sembrano non accettare la iconografia cristiana. Lui lo ha fatto, essendo peraltro un pittore contemporaneo. Giovanni ha una religiosità, diciamo, non comune perché lui segue proprio il cristianesimo preconciliare, si è studiato tutti, quindi voglio dire è un papista. Il fatto che sia molto erudito traspare anche dall'iconografia. Ma gli dà questa convinzione che non sia possibile rappresentare l'arte sacra, cioè creare l'arte sacra senza parlare al popolo che era poi, come dire, il destinatario sin dall'antichità. Sono sguardi che ti toccano l'anima, sono sguardi che veramente riempiono la tela. Sì, sì. Sì, ma guardi questo, San Nicola Pellegrino. Qua siamo davanti a Giacquinto, Giacquinto è Giacquinto, anche se un pittore in quadretto, diciamo, giovanile, anche abbastanza inculcibile, però c'è la firma, è suo. Rispetto a ciò che ha fatto dopo, non è... Ma guardate come ha innovato il quadro, con questa visione quasi a volo d'uccello dall'alto, con questo santo che è inginocchiato sull'arenile, con questi che non sono bambini, come voleva l'iconografia comune. Lui si faceva attornare da bambini a cui regalava ciliegie e a cui insegnava a chiedere la benedizione di Dio, chi rielei sono, Cristo aiutami, eccetera. È possibile definire Gasparro un pittore unico nel genere? Sì, penso che oggi come oggi. Ci sono altri pittori che si ispirano alla pittura del 5, del 6, eccetera, ma non raggiungeranno mai Gasparro, perché la sincerità, quello che lo connota, cioè lui quando dipinge non lo fa, lo fa anche perché qualcuno glielo chiede, ma lui cerca un rapporto diretto col santo. Questo ambiente, questo edificio immenso, è appartenuto alla comunità ignaziana dal 1700 fino a un'altra metà del 1800. Poi è stato annesso al patrimonio del vescovo, diciamo, della curia diocesana, negli ultimi decenni addirittura alla comunità scolastica, perché ha ospitato qui diverse classi di scuole elementari, e finalmente, ecco, con il contributo di un bando regionale, e direi anche con tanti sacrifici, con tanta pazienza e perizia di molti nostri collaboratori, e finalmente, ecco, gli spazi, gli ambiti del nostro museo diocesano si sono quasi moltiplicati, raddoppiati. Ebbene, auguro ogni bene a questa bella iniziativa, a questo ente, a questa comunità diocesana. Andiamo. Grazie per la visione!